Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 13 a 16. In questo brano Marco ci parla degli Apostoli che hanno impedito i bambini di andare verso Gesù. A Gesù di dire, lasciate i bambini che vengano a me, non le impedite. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non può entrare in esso. Dunque Gesù invita gli Apostoli di accogliere il regno di Dio come lo accoglie un bambino. Allora questa espressione può essere compresa in due modi. Il primo modo sarebbe questo. Già nel linguaggio teologico i bambini rappresentano tutte le persone vulnerabili. Tutte queste persone immaginate, abbandonate, sono questi bambini. Dunque queste persone immaginate accolgono il regno di Dio, cioè si aprono, si lasciano andare dalla parola, accolgono la parola, si lasciano istruire, accettano la proposta di Dio. E' ovvio di entrare in un buon rapporto con il Signore e di conseguenza le porte del paradiso saranno aperte. Dunque questi bambini, questi immaginati accettano la parola perché sanno che questa è parola di verità. Accolgono Cristo perché sanno che Lui è il punto di partenza e il punto di arrivo. Si sanno che Gesù è la vita, la verità e la via. Dunque il cuore aperto è questa dimensione che qualche volta ci manca a noi. Aprire il cuore, abbandonarsi nelle mani del Signore. Perché quando noi preghiamo la nostra intenzione è di chiedere a Dio di fare subito ora ciò che richiediamo. Ma le vie del Signore non sono le nostre, i pensieri del Signore non sono neanche i nostri. Ecco, ma qui Gesù in questa prima comprensione invita la gente a abbandonarsi, imparare ad abbandonarsi. E la seconda comprensione di questa allocuzione di Gesù è proprio di avere un atteggiamento di un bambino. Il bambino sa relazionarsi, il bambino è umile, il bambino è semplice, non mantiene rancore, non cerca di rimanere nell'ira, cerca sempre di fare pace. E dunque accogliere il regno di Dio come un bambino potrebbe avere il senso di avere l'atteggiamento di un bambino. E' così che si può veramente entrare nel regno dei cieli. La semplicità, la dolcezza, il senso del rapporto, di relazionarsi. E così un bambino è. Si lascia andare, apre il cuore, non mantiene rancore. Dunque l'atteggiamento di un bambino ti permetterà di entrare nel regno di Dio, di possedere il regno di Dio. Ecco, carissimi, dunque per dirci, il nostro rapporto con il Signore dovrebbe partire dall'esempio di un bambino. Dall'esempio delle persone emarginate che si affidano, che si lasciano andare. E in altre parole posso dire che il regno di Dio come felicità sulla terra sarebbe l'invito dunque di accoglere questa felicità o per chi vuole vivere felice in questo mondo deve adottare un atteggiamento di un bambino l'apertura, lasciarsi andare, l'affidamento al Signore. E' così che noi veramente erederemo il regno di Dio cioè vivremo nella felicità sulla terra e come eredità sarà il regno dei cieli. Ecco, quello che pensavo condividere con voi. Allora, invochiamo lo Spirito Santo di aiutarci ad avere un cuore aperto non soltanto al Signore ma anche agli altri. Chiediamo allo Spirito Santo di toglierci questo atteggiamento degli apostoli che ha voluto impedire i bambini di andare verso Gesù. Quante volte noi abbiamo impedito delle persone a conoscere Cristo o ad andare verso Cristo o anche a entrare in un circolo di felicità a trovare la sua gioia. Quante volte abbiamo impedito le persone per l'egoismo nostro, per l'invidia o per mancanza di conoscenza impediamo delle persone a conoscere proprio la felicità oppure anche per mancanza di testimonianza nostra. Allontaniamo le persone. Invece di essere protagonisti dell'avvicinanza a Cristo noi diventiamo antagonisti. Ecco, dunque, penso che chiederemo allo Spirito veramente di toglierci questo modo di fare. Tutti vogliono essere salvati e noi come cristiani, noi come seguaci dovremmo essere un tramite affinché tutti possano arrivare alla gloria di Dio. Vi auguro una buona e stata giornata che Dio ti benedica sempre.